Salve a tutti quanti, io sono Trenas e benvenuti a questo nuovo video dedicato alla patch 9.23, quello che va a cambiare tutto League of Legends. Ce n'è una quantità industriale da parlare, ho già fatto un video in merito che va a riassumere un pochino il tutto, ma ovviamente le patch notes le andremo a fare come al solito. Così che abbiamo anche numeri, cose, perfetto, tutto quanto preciso nella sua versione finale. Finalmente, grazie. Allora, 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 la fine stagione, la stagione del 2019 è finita, se avete raggiunto il livello oro superiore alla quota classificata in singolo flex della land, bla bla bla, vincete questa skin. Orribile. No, per me è Maria, per me è no. Questa è proprio brutta. Tutte ricompense classificate, icone, bordi, aspetti e croma saranno distribuite durante la patch 9.23, quindi siate pazienti, se non vi arriva subito, arriverà con calma. Tornate tranquilli. Land degli elementi. In questa prestagione aggiungeremo più varietà tra una partita e l'altra e più opportunità per la maestria nella land degli evocatori. Dopo la morte del secondo drago elementare della partita, la mappa si trasformerà in modo permanente in una delle quattro land degli elementi, ognuna con i suoi cambiamenti in terreno unici, che modificheranno il modo in cui affronterete i combattimenti a squadra, le rotazioni, la visione e il controllo di obiettivi. In pratica, che cosa succede? Molto semplicemente, allo scoccare della morte del secondo drago, i primi due draghi sono totalmente casuali. Primo drago, secondo drago e poi la landa si trasforma in uno specifico elemento. Fuoco, aria, terra, acqua, dipendentemente da quello che è il terzo elemento. Da quel momento in poi non appariranno draghi di altro tipo, appariranno draghi di solo quel tipo. La landa è infernale, appariranno solo draghi infernali. La landa è oceanica, allora avrai soltanto draghi dell'oceano. La draga è... la draga. La landa è montagnosa, allora ci saranno solo draghi della montagna. La landa è della nuvola, ovviamente ci saranno solo draghi della nuvola. Il focus è questo, è che la landa viene modificata dall'elemento costringendoti ad adattarti sul momento. Stesso elemento del terzo drago. Una volta che la mappa si trasforma, tutti i successivi draghi elementari che appariranno sanno solo dell'elemento corrispondente. Si verificano sempre nei quattro quadranti della giungla, le modifica al terreno, incentrati sui campi dei buff e nelle tarni dei draghi. La landa è infernale, semplicemente l'erba alta più vicina ai buff blu e rosso viene bruciata e si aprono nuovi passaggi attraverso le aree dei buff. Entrata dalla posta del drago si allarga leggermente. La landa è della montagna, due nuove formazioni rocciose emergono in ogni quadrante della giungla e una formazione rocciosa emerge di fronte alla fossa del drago. Questo è carino perché va a modificare molto di quello che è in sé e per sé quello che è il combattimento attorno ai due... La landa infernale e la landa della montagna sono quelli che modifichano pesantemente la landa proprio a livello di come ti sposti al suo interno. Perché o aprendo nuove strade o chiudendo alcune delle strade più comuni ti costringe ad adattarti a situazione e a essere avvantaggiato nel caso tu abbia molta mobilità o svantaggiato se tu ne hai poca perché sei costretto ad andare in corridoi più stretti o magari hai più spazio quindi sei avvantaggiato sotto quel punto di vista. Possono cambiare tante cose e il tutto dipende da quale landa appare ovviamente. La landa dell'oceano e la landa della nuvola invece cambiano in maniera più curiosa. La landa dell'oceano nella giungla la maggior parte dell'erba alta nella giungla diventa più fitta ed appaiono nuovi frutti milosi vicino ai campi dei buff. L'acqua forma delle pozzanghe in tutta la giungla ma si tratta di un cambiamento soprattutto estetico a meno che non siate l'imperatrice degli elementi o non stiate usando la runa a camminare sull'acqua. Questo è interessante perché quindi hai delle interazioni specifiche con Kiana, con una runa quindi non male così da tutto ma ci sono anche nuovi cespugli di erba alta che nascono all'interno intorno, non all'interno, intorno alla fossa del drago. Carino ma niente di eccezionalmente esagerato. La landa della nuvola invece correnti d'aria soffirono in tutta l'area intorno ai buff blu e rosso conferendo bonus a velocità a chiunque sia al loro interno nella fossa del drago diventa una galleria del vento che conferisce bonus a velocità niente di più e niente di meno molto più semplice e basilare e ragazzi penso che swap però emetterò una scena diversa perché mi sembra il caso, in questo caso, di andare a vedere effettivamente quelle che sono la lande. Questo è il drago della nuvola come appare con i corridoi d'aria che sono qua presenti stesso discorso per la landa oceanica come vedete qua appaiono i bush e qua invece è dove crescono qui, qui, qui sono tutti un pochino più fitti e grassi questi bush qui è il muro che appare sul drago della montagna e questi sono, questo qua e questo qua sono alcuni dei moretti non li fanno vedere tutti quanti perché sennò ci staremmo una vita a guardarli qua invece vediamo l'apertura come è cresciuta in questo caso con la landa infernale e qua il red buff come è facilmente accessibile da più lati dandoti l'opportunità di creare e cercare dei fight in maniera più semplice attorno a queste lande curioso, curioso, poco ma certo ma mai quanto i lame, i meandri nelle corsie laterali sono confuso letteralmente sono sono letteralmente confuso dal fatto che come vi è venuto in mente hanno messo delle piccoli corridoi laterali che possono essere usati da alcuni campioni vedi Kane, vedi Bard anche il fatto che c'è presente questo muretto non è per niente male ma è così strana come aggiunta sono curioso di vedere che perché secondo me nel momento in cui i pro player metteranno le loro mani su queste su queste nuove corsie vedremo veramente delle grandi figate la cosa più importante è che sulla corsia inferiore adesso ci sono tre bush non sono più soltanto due come erano in passato ma ce ne sono tre quindi come in top lane uguale, identico semplice, semplice erba alta all'ingresso del fiume questa è un'aggiunta carina che non va a modificare troppo i pattern di visione perché non è una zona in cui vai a pezzare dei lumi solitamente di solito lo piazzi qua all'entrata oppure proprio qua nel punto esatto per vedere chi passa per di qui chi passa per di qua è chi passa e fa il blue buff curioso come è un posizionamento del bush qua simmetrico dall'altro lato della mappa giustamente draghi elementali le anime dei draghi sono un nuovo buff di fine partita per le squadre che si aggiudicano la contesa dei draghi elementali una potente ricompensa simile a un obiettivo epico non offrono la stessa forza immediata del buff del barone e del drago maggiore ma sono permanenti e si aggiungono le cariche di draghi già ottenute la prima squadra che uccide 4 draghi elementali ottiene un'anima del drago corrispondente alla landa degli elementi quindi se hai una landa infuocata avrai l'anima infernale se hai una landa oceanica avrai l'anima oceanica e così via andiamo finalmente a vedere i numeri finali perché sono proprio curioso di vederli anima infernale ogni 3 secondi il tuo successivo attacco abilità che infligge danni a un'unità nemica attiva attiva una piccola esplosione che infligge 90 più 0,25 attacco fisico bonus più 0,15 potere magico più 0,03 salute bonus danni ai bersagli e nemici vicini in pratica crei questa mini esplosione che è molto carino è un effetto interessante perché ti va a dare quel certo non so che in più di danno che può funzionare molto bene per certi campioni che hanno magari danno burst o che vogliono fare una combo molto in fretta per poi allontanarsi e poi riprovare a fare la stessa combo perché puoi permetterti di fare questa cosa ogni 3 secondi e i team molto aggressivi verranno premiati tantissimo con quest'anima infernale soprattutto quelli che scalano su tante statistiche tipo AD, AP proprio grezze non che vanno per itemizzazioni che si basano magari sull'avvocità attacco quindi i carry non sono molto favoriti a questo buff sono felici di averlo non sono i favoriti ad utilizzarlo però a meno che non sono campioni che sfruttano pesantemente le statistiche offensive e non sono così tanti quei campioni anima della montagna se non si subiscono danni per 5 secondi ci diceva uno scudo da 225 salute che scala con attacco fisico bonus potere magico e salute bonus uno scudo molto semplice cooldown di 5 secondi niente di esagerato ma molto interessante perché vuol dire che anche se tu sei in combattimento puoi ottenere questo scudo se riesci a caitare correttamente un avversario magari riesci a salvarti in alcune occasioni in cui ti stanno inseguendo e arriva magari la suprema di Ezreal o il missile di Jinx o un cassa di intiplana in testa dal fianco e pensa di ucciderti ma non ha più mana successivamente e quindi è fregato perché ha usato la suprema piena carica c'è tanti modi in cui può salvarti e anche nei fight aprire con tanti HP in più e 225 di base non è scudo da poco può portare molti team molto in vantaggio questo è abbastanza neutro come va funziona su tutti quanti effettivamente in maniera molto efficace animal dell'oceano infliggere danni nemici ti cura di 180 più 0,4 attacco fisico bonus 0,25 potere magico più 0,1 salute bonus e ripristina 90 più 0,04 mana massimo Rise è felicissimo di questa cosa mana nell'arco di 3 secondi danni minion ai mostri rigenerano con un'efficacia del 30% carino perché non è una rigenerazione in cui sei passivo e aspetti semplicemente che arrivi questa rigenerazione devi effettivamente andare a aggredire qualcosa che sia minion o che sia campioni o che sia mostri devi interagire con la landa per poter ottenere questa rigenerazione non è che stai sotto torre così e dici ok ho abbastanza vita per rispondermi no 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 aspetta un attimo ok andiamo e poi finalmente ci vai perché ti sei rigenerato da tutta la barra degli HP che è assurdo era assurdo perché non lo sarà più anima della nulla ottieni passivamente il 10% di velocità di movimento in più che non è niente da sottorotare figa se è forte questa cosa perché non specifica nemmeno fuori o dentro il combattimento è sempre questo buff porca droia dopo aver lanciato la supreme ottieni un ulteriore 30% della velocità di movimento per 3 secondi e a 30 secondi di ricarica quindi non puoi abusarne pesantemente con campioni che hanno supreme a cooldown basso ma non è per niente male perché alla fine è quello che si è sempre voluto e che addirittura veniva spesso unitieri abusato su alcuni campioni come Vladimir perché c'era la Nimbus Clock che ti dava lo stesso identico effetto ma è stato spostato qui e infatti poi andiamo a parlare da Nimbus Clock buffa i draghi elementali semplicemente il cambiamento dei numeri e dell'efficienza dei singoli draghi la potenza infernale adesso è 5, 10, 15 20% di attacco fisico e potere magico dipendentemente dal numero di draghi che hai se prendi 4 draghi infernali allora vuol dire che hai questo bonus quindi in totale questo vuol dire che è un netto nerf fino al secondo drago e anche a prescindere è comunque meno ottieni meno statistiche grezze dal drago infernale ci sta visto che era veramente opprimente come buff in un caso in cui ne ottenessi 3 drago della montagna non dà più danni puri ai bonus ai mostri epici o alle torri ma ti dà 8, 16, 24 lo 32% dell'armatura e resistenza magica e da notare puoi ottenere 4 draghi solo in un'occasione il team avversario ha conquistato i primi 2 e poi tu conquisti tutti i 4 che arrivano successivamente è possibile? certo è probabile infatti dovresti sempre pensare ad avere 2 o al massimo 3 di questi potenziamenti 3 è quello più probabile 2 è quello più probabile se sei già in vantaggio ottieni i primi 2 draghi poi ottieni anche il terzo e anche il quarto dovrebbe essere abbastanza semplice farne 4 di buff non è semplice resistenza resistenza magica e armatura bonus percentuale è veramente forte per i tank ne avevano bisogno perché non sto parlando di Jax Irelia Renekton che loro non sono tank loro sono bruise sono fighter Darius Garen eccetera sono juggernaut è la definizione corretta sono campioni che si possono acquistare HP ma non sono tankosi di per sé non hanno statistiche grezzate anche non devono piazzarti giù in quei controlli e tenerti fermo immobile non è quello il loro lavoro il loro lavoro è picchiarti male sono un pochino tankosi ma non eccessivamente e non vanno a prendere tanta resistenza chi prende armature di resistenza magica Maokai Nautilus Sejuani Zack Jarvan se vuoi andare per una build estremamente difensiva Amumu Nunu cose del genere che vogliono acquistare risorse difensive e che puntano solo a quelle questi campioni verranno aiutati dal cambiamento del drago della montagna che mi piace sincero perché era veramente facile ottenere il barone Nashor e anche i draghi una volta che ottenevi il primo drago della montagna drago oceanico 5, 10, 15, 20% di rigenerazione salute mancante per 5 secondi hanno rimosso la rigenerazione mana molto semplicemente l'hanno indebolito un pochino e hanno indebolito un pochino soltanto se si considera il primo drago il secondo già è meglio al terzo è migliore ma al quarto è mostruosamente più forte ma non c'è più la rigenerazione mana e questo va a indebolire molto il drago dell'oceano ed è strano perché è uno dei draghi più mediocri in assoluto e il drago della nuvola è sbroccato il drago della nuvola sono riusciti a sbroccarlo la grazia della portatoria della nuvola ti dà 10, 20, 30, 40% riduzione della ricarica della suprema che ignora i limiti di riduzione della ricarica che cosa vuol dire è questo che se per un puro caso per un puro caso il tuo team perde i primi due draghi mannaggia poi appare la banda della nuvola e prendete quattro draghi della nuvola non solo hai il 40% di riduzione ricarica dai tuoi oggetti o dal tuo erone eccetera eccetera ma puoi arrivare fino all'80% insieme a questo ora non è detto che sia in forma additiva cioè non è 40 e 40 diventa un 80% di riduzione di carica oppure se è 40% viene ridotto e poi il 40% successivo funziona solo sul 60% e non sul 100% è una somma additiva contro una somma moltiplicativa questa però non si sa ancora quale delle due effettivamente sia a prescindere vuol dire portarti verso l'infinito e oltre è veramente forte il drago della nuvola ora prendeteli sempre e comunque kartus sarà felicissimo e così anche rise meccaniche di draghi elementali prima l'ordine di generazione di draghi era casuale adesso i primi tre draghi ora sono sempre di tre elementi diversi tutti i draghi successivi saranno dello stesso elemento del terzo drago basic semplice efficacissimo finestra di generazione di draghi iniziale a 5 minuti rigenerazione a 5 minuti fino a 35 minuti iniziale a 5 minuti rigenerazione ogni 5 minuti finché una squadra non ha ucciso 4 draghi ottimo ci sta dato che i buff dei draghi elementali sono un po' più debole viene diminuito la salute dei primi due la battaglia per l'animo e il drago inizia a scaldarsi dopo quel momento quindi i draghi successivi dei primi due hanno più salute per aumentare le opportunità delle squadre di competere cosa succede 2650 più 240 hp per livello livello minimo 6 prima che la landa si trasformi poi ottiene circa 1700 hp così di colpo 240 per livello livello minimo 6 dal terzo drago in poi quindi 1700 hp di base in più una volta che appare il terzo drago non roba da poco decisamente drago maggiore molto semplice il buff del drago maggiore non aumenta più gli effetti dei buff dei draghi elementari al 50% il danno da ostione è proprio fisso immobile scala nel tempo scala col tempo di gioco non scala con la quantità di draghi elementari che hai preso e fa da 90 a 260 danni puri nell'arco di 3 secondi dipendentemente dal momento di gioco la fulgore di vampante le ostioni del drago maggiore non rivelano più i nemici ci sta prendere il drago maggiore una seconda volta non aumenta più il buff elementari del 100% i danni da ostione a 135 più 90 quindi non hai nessun bonus a prendere più draghi maggiori il drago adesso è flat quindi non vieni premiato per aver preso più draghi precedentemente questo è sensato perché a questo modo è un buff valido anche per chi è rimasto indietro e quindi riesce a recuperare la partita è sensato che se riesci a ribaltare una situazione prendere magari un drago maggiore e da lì in poi combattere di nuovo è veramente figo ma questa è la vera figata infligge le danni ai nemici che hanno meno del 20% di salute e li uccide in un'immolazione maggiore dopo mezzo secondo e questo effetto non ha ricarica letteralmente tu vieni schiocca le dita al drago e dice big fucking nope bro non sei fuggito hai subito un ultimo colpo di fiamma alla fine e sei sotto il 20% di vita morto scomparso disintegrato sull'istante questa roba è veramente forte nei fight prolungati è veramente disgustoso più che altro perché se non curi un alleato in tempo è morto a prescindere dallo scudo che gli metti è morto è morto non puoi difenderlo con uno scudo devi per forza di cose abbatterlo sotto quella quantità di hp e o lo curi oppure deve essere intergettabile perché non può giustiziare i nemici che hanno effetti di vulnerabilità come la clesside della izonia o l'immortalità come la r riposa dell'agnella ai kindred ci sta considerato tutto perché questi effetti sono fatti apposta per sopravvivere e renderti immortale la durata del drago maggiore e del barone durano 3 minuti sempre perso nel momento in cui muori fine hanno semplicemente reso il tutto uguale identico quindi fai delle scelte e qual è la migliore vuoi un pochino di statistiche in più per combattere la facilità di assedio oppure vuoi combattere con danni puri e poter eliminare un tuo avversario con uno schiocco di dita sono scelte regola di generazione del drago maggiore 6 minuti dopo che una squadra uccide il quarto drago elementale la rigenerazione ogni 6 minuti molto basic niente di complicato muoiono un team ha preso 4 draghi da lì in poi ogni 6 minuti c'è un drago maggiore simple as that niente di più e niente di meno buff del barone adesso la durata è di 180 secondi invece che 210 secondi non vogliono dare troppo spazio a chi ha ottenuto un barone Nashor ci sta perché era qualcosa di mostruosamente forte e abusato in competitivo in primis e volevano allineare drago maggiore e barone Nashor come livello di potenza visto che adesso durano uguali a 180 secondi il blue buff il red buff e il barone Nashor hanno effetti diversi nella prima fila vediamo il blue buff il red buff e questo è il danno che ti appare addosso quando subisci il danno puro del red buff questo è il drago maggiore come effetto questo è il barone Nashor e questa è la combinazione dell'anima del drago che vedete sotto il red buff il blue buff il barone Nashor e il drago maggiore holy shit non si capisce niente influenza in corsia superiore ah pronto per le cazzate pronti partenze e via con l'aumento delle importanze dei draghi in lato inferiore faremo generare i messaggeri della banda un po' prima permettendole di rigenerarsi una volta per evitare che le squadre abbandonino completamente i loro campioni in corsia superiore ragazzi avete reso i draghi una roba mostruosamente importante e pensate che due messaggeri della banda faccia una differenza perché adesso la messaggera spona 8 minuti invece che 10 si rigenera dopo 6 minuti quindi se letteralmente lo uccidi in 10 secondi rispona a 14 minuti e 10 secondi e quindi non puoi prenderci placature col secondo ma è comunque importante se riesci a conquistare due messaggeri della banda perché vai a controllare tanto la partita la scomparsa è 19 minuti e 30 ritardata a 19 minuti e 50 se in combattimento quindi uguale a prima un pochino meno hp di prima ma aumentano di più a livello 12 di 500 hp quindi una differenza infima la velocità d'attacco è scesa ed è più facile colpire l'occhio di messaggero l'alanda prima che si giri rendendo un pochino più di impatto la capacità di alcuni giocatori di poter di alcuni campioni di kaitare attorno colpire l'occhio rikaitare attorno ricolpire l'occhio e permettere uno sfruttamento migliore messaggero messaggero l'alanda evocato finestra di raccolta dell'occhio del messaggero hai 20 secondi per prenderlo non 40 canalizzazione dell'occhio del messaggero l'alanda ci vuole solo un secondo per evocarlo non male il livello medio di tutti i 10 campioni determinato quando si raccoglie l'occhio del messaggero è il livello del messaggero cosa significa questo in pratica la vita del messaggero è sempre scalata con quello che è la media di tutti i 10 campioni e veniva determinato nel momento in cui veniva evocato il messaggero l'alanda adesso è soltanto quando raccogli quindi devi raccoglierlo e devi usarlo in fretta se no è molto più fragile di prima sensato così era tutto e i livelli del messaggero l'alanda sono la quantità di hp che ottieni al livello 6 è più basso è leggermente nerfato ad ogni singolo livello pesantemente nerfato a livello 6 ma leggermente nerfato a livello 12 i danni della torre della testata è il 40% della salute attuale nope diventeranno fissi e diventano da 1500 a 2550 che scala dai livelli dal 6 al 12 e il danno a se stesso della testata sale al 66% della salute attuale quindi nel momento in cui tira la testata diventa molto più fragile quindi non puoi utilizzare molti testate su più torri facilmente ah no non puoi una volta che tira la seconda testata è morto ha una salute attuale non totale salute attuale quindi puoi ancora tirarle ma è molto facile abbatterlo dopo che ha tirato la prima testata ci sta ci sta almeno dai un modo di reagire a quei poveri bastardi che subiscono messaggiare l'alanda in faccia capisco capisco questo è quello che risolve la tople no e dicono ah vabbè dai vediamo anche un po' di esperienze in più abbiamo leggermente modificato i punti di esperienze i minion per cui liberano l'influenza che campione corse superiore e inferiore hanno sulla partita quindi ehm punti di esperienze singolo corpo a corpo aumenta di 2 mago aumenta di .32 e il canone è di 1 e i pie condivisi sulla corsia inferiore scendono di 1.4 1.3 e 4 sui minion canone ok no questo sui canoni è molto importante il nerf non farà questa grande differenza sincero non farà questa grande differenza non è questo che sbilancia il tutto che poi qua arriva è la cosa che dovrebbe bilanciare il tutto ma arriviamoci con calma la corazza della torme resistenza bastione 35 di armature resistenza magica per il terzo quarto e quinto attaccante dopo la distruzione di una corazza in questo modo non ti trovi tre persone in top lane ad allarti la torre e ci sta perché succedeva sempre più spesso che dicono ok abbiamo perso la bot lane bene ruotiamo tutti i top prendiamo il messaggero e abbattiamo la torre e il top laner guardava e diceva porca troia ragazzi perché avete intato bot lane mannaggia che poi anche questo lo scudo di doran buffa lo scudo di doran per renderlo un'opzione più forte nei scordi tra campioni da corpo a corpo da corpo a corpo e distanza invece che fino a 30 salute nell'arco di 10 secondi dopo aver subito danni a un campione nemico è fino a 40 salute nell'arco di 8 secondi dopo aver subito danni a un campione nemico in base alla salute mancante efficace il 66% per gli utilizzatori a distanza si è attivato da danni ad aria danni al tempo effetti di attivazione quindi quindi hai 26 HP nell'arco di 8 secondi se sei un campione da gittata e 40 se sei un campione corpo a corpo perché è questo il problema questo non risolve aiuta non è che non aiuti eh ragazzi io sono drammatico ma perché questo non fa la differenza questo non fa la differenza un campione da gittata non prende lo scudo di Doran a meno che non abbia veramente paura della rush che può subire prende una Doran Blade prende un Doran Ring eh vabbè eh vabbè ritmo della giungla questo cambia e non di poco e non è da sottolutare questo punti di esperienza oggetti della giungla gli oggetti della giungla non conferiscono più punti di esperienza aggiuntivi uccidendo mostri se siete indietro con i livelli non hai più la possibilità di avere quel recupero nel caso in cui rimani indietro punti di esperienza bonus nel primo campo salgono a 120 a 165 per compensare un pochino i mostri epici però continuano ad avere punti di esperienza di recupero innati a prescindere ci sta considerato tutto il timer dei campi adesso rigenerazione dei campi piccoli scende da 150 a 120 secondi quindi hai più spesso campi della giungla questo è molto importante se la vostra squadra aveva la visione di un campo piccolo quando è stato ucciso vedrete un'icona di rigenerazione sulla mia mappa 15 secondi prima della rigenerazione ok le icone di rigenerazione dei campi di buff cambieranno una grigia gialla 15 secondi prima della rigenerazione ci sta perché 20 secondi era veramente tanto da aspettare in giro dici ok che cosa faccio nel mentre era abbastanza palloso aspettare Krug P e base 247 e 217 primo completamento 160 rimossa più la unità del primo completamento del Krug antico ok quindi di base è meno molto meno e guadagni 5 gold in meno niente di troppo grave questo 20 di esperienza in meno dai lupi e 14 gold in meno i gromp sale di salute sale di 20 di esperienza e quindi recuperi quei 15 che avevi perso e loro base sale a 105 con un aumento di salute di 300 hp però i lamabecchi perdi 20 e perdi 27 gold però rigenerano ogni 120 secondi quindi vuol dire che hai 120 secondi ogni 4 minuti no ogni 2 minuti che cazzo sto dicendo ogni 2 minuti rispondono invece che ogni 2 minuti e 30 vuol dire che dopo 4 clear della giungla hai un clear aggiuntivo sì sì dopo 4 clear della giungla ne hai uno in più che sei comunque 8 minuti non è 10 minuti se consideri lo spawn iniziale non è male se consideri tutto la tempistica dei livelli dovrebbe essere molto simile devo fare dei conti qua ci vorrà del tempo perché non è un nerf ma nemmeno un buff penso che per chi power farma per chi farma veramente tanto non è un nerf ma è un buff ma per chi ganka anche un minimo e perde del tempo a non farmare bene correttamente i campi è un nerf all'esperienza perché se la gank non ha successo è fregato rimane tanto indietro perché non hai i punti esperienza di recupero ok ok non male non male questo premierà molto le gank corrette e punirà pesantemente chi ganka male o spreca tempo ci sta ci sta oggetti da letalità mamma mia 28 minuti di video ragazzi c'è veramente tanto da dire e ne avremo da parlare a Iosa lama crepuscolare e dractar aumenta l'attacco fisico viene l'unica cosa che cambia oltre all'attacco fisico che viene aumentato di 5 non disabilita più i lumi vicini non arriva alle trappole vicine non può essere stato avvistato perché è stato aggiunto a un altro oggetto andiamo a vedere sotto non è variato in alcun modo e forma zero proprio uguale identico tranne per una cosa ora permette a chi la utilizza di ignorare le collisioni per la durata dell'effetto è carina come cosa puoi ignorare i campi della giungla i minion non è malvagio però non è neanche niente eccezionale la fine della notte che finalmente è un oggetto valido perdele di 8 ore di letalità ma ottiene 75 hp perde 5 di attacco fisico ma costa 100 gold in meno e lo scudo si rigenera ogni 40 secondi conferisce uno scudo incantato che blocca la prima vita nemica con cui entra in contatto lo scudo si ripristina se non hai subito danni da campioni per 40 secondi grazie finalmente alleluia era necessario era davvero necessario questo ma meno male porca di quella miseria si è un po' più debole di prima ma almeno lo vai a prendere per uno scopo non perché vuoi letalità in più a caso ma perché vuoi avere uno scudo per parare qualcosa ci sta ci sta veramente tanto e sono contento lama sanguigna questo è un nuovo oggetto che costa 3000 gold lo costruisci con un lungo pugnale segretato uno cetro vampirico e 1000 gold ti dà 50 attacco fisico 10 di letalità che è abbastanza mediocre da solo ruba vita 15% che è abbastanza buona da sola ma ha una abilità passiva unica molto figa quando ha al massimo un nemico visibile nei paraggi guadagna 8 letalità e 40 100% di velocità d'attacco tra livello 1 e livello 18 che ti crescono nell'arco ai 3 secondi se altri campioni nemici si avvicinano troppo quindi di per sé quando sei in un team fight ti dà meno statistiche ma quando sei da solo hai 18 letalità da 40 100% di velocità d'attacco che è veramente tanto e scala con i livelli cioè a livello 1 ti dà 40% quindi di base vuol dire che se lo rushi come primo oggetto e non lo farai praticamente mai questa cosa sarai sui 60 70% è roba malvagia considerato tutto eh molto buono a me piace veramente veramente tanto ombra tagliente invece questo è un oggetto più da utilità 2400 gold lungo pugnale seghettato spada lunga spada lunga 600 gold e ti dà 50 attacco fisico 12 letalità 10% di riduzione ricarica quando viene individuato da un lume unico rivela le trappole e disattiva i lumi intorno a te per 8 secondi durante questo tempo gli attacchi vasi distruggono istantaneamente le trappole disattivate e infliggono danni tripli ai lumi letteralmente hanno preso quello che era la passiva del blackout della lama crepuscolare e dractere l'hanno spostato sul nuovo oggetto basic e dal lungo pugnale seghettato viene rimosso il cacciatore di testa che era quell'effetto che la tua prossima unità che infligge danni non infliggerà più 40 danni fisici bonus dopo l'uccisione di un nemico ci sta era qualcosa che in laning phase potevi sfruttare semplicemente abusando dei minion e poi colpendo il tuo avversario era necessario toglierlo era veramente necessario toglierlo apprezzo molto allora allora aggiornamenti delle meccaniche degli oggetti a supporto e questo è un po' strano gli oggetti di supporto hanno ancora tre livelli ma ora si potenziano automaticamente e gratuitamente quando completi le loro missioni non devi più spendere soldi dopo l'acquisto iniziale dell'oggetto l'oggetto iniziale costa 400 oro ottieni oro con tributo bottino di guerra per il potenziamento a livello 2 ottieni statistiche aumentate e 3 cariche per i lumi otteni oro con tributo o bottino di guerra per il potenziamento a livello 3 hai statistiche significativamente aumentate e 4 cariche lumi totali tributo o bottino di guerra spariscono quindi non puoi più effettivamente arrasare per ottenere gold non puoi più lastrittare per ottenere gold rip ma costano in totale 400 gold e basta quindi tutti i soldini che andavi a spendere per potenziare un oggetto da supporto che erano 1800 gold in totale ogni volta erano tanti adesso puoi spenderli su tutt'altro questa è una figata pazzesca io lo adoro e soprattutto hanno rimosso la moneta antica quindi non puoi stare lì passivo in lane oh monetina grazie oh monetina grazie in questa mano tengo la moneta antica oh guarda un'altra moneta oh una moneta nel mana vabbè l'accetto comunque oh una moneta grazie e non facevi nient'altro stavi là a guardare come un coglione non giocavi in league of legends stavi lì fermo era orribile antiabuso divora il ricco farmare più di 20 cs ogni 5 minuti 3 ondate su 10 riducere l'oro dal minion del 50% questa penalità aumenta con un ulteriore cs fino a un massimo di riduzione dell'80% a 50 minion non è malvagio ti permette di farmare molto meglio e non ti punisce quelli che sono gli oggetti di supporto una volta che penalità si attiva il vostro oro diventa dai cs scende a 70 cs entro 5 minuti per cento 70 meno 5 cs entro 5 minuti per cento in pratica vanno a diminuirla in percentuale ok ci sta ci sta cambiamenti al tributo la linea del vantaggio del mago ladro adesso è un po' diversa le abilità che infliggono danni gli attacchi contro campioni e strutture conferiscono 15 oro ottiene una carica ogni 10 secondi fino a un massimo di 3 prima era un pochino più complicato le abilità gli attacchi contro campioni e strutture infliggono 13 danni magici bonus quindi faccia di danno in più e se c'è un alleato vicino conferiscono 11 oro potenziato a 22 ottiene una carica ogni 10 secondi fino a un massimo di 3 quindi è molto semplice la situazione in pratica non guadagni del danno in più semplicemente se tu aggredisci il tuo avversario ottieni dell'oro semplice efficace niente di complicato vantaggio del mago ladro adesso ti da 10 di salute al primo livello un pochino meno potere magico e non conferisce più il 25% di rigenerazione mana ti da oro ogni 10 secondi 2 che è invariato e abbiamo questo effetto che abbiamo appena descritto ottenere 500 oro in totale attraverso il tributo potenzia questo oggetto in zanna di ghiaccio hai 15 di potere magico piuttosto che 20 ma ti da 70 HP non conferisce più rigenerazione mana non conferisce più di riduzione di carica ma ottieni 3 oro ogni 10 secondi invece che soltanto 2 nel momento in cui tu ottieni 1000 oro in totale attraverso il tributo potenzia questo oggetto in frammento di vero ghiaccio frammento di vero ghiaccio sali da 35 a 60 di potere magico quindi un grosso buff salute perdi 50 HP ma considerato che ottieni 25 di ability power boia se ne vale la pena perdi la rigenerazione mana non dà più riduzione di carica perché comunque puoi prendere oggetti adesso perché hai soldi da spendere oro ogni 10 secondi sale da 2 a 3 e perdi il tributo non puoi più effettivamente avere il tributo nel momento in cui si evolva all'ultimo livello ma è ancora la passiva dei lumi yeee che ce l'avevi anche già a livello 2 quindi sei già felice così la linea della falce spettrale è letteralmente la stessa identica cosa del vantaggio del mago ladro ma invece di potere magico ti dà attacco fisico uguale identico 5 10 35 non roba da poco considerato tutto la salute è uguale identica la generazione di di cose di oro è uguale identica ma dà una scelta una possibilità ai campioni a D di poter andare in corsia inferiore questo secondo me cambierà il ritmo di alcune corsie e permetterà ad alcuni campioni di funzionare come supporti e non come tiratori oppure altri campioni che magari in botlane non siamo abituati a vedere ma che ora hanno un oggetto da poter usare vedremo lo scopriremo nel tempo la linea dello scudo reliquia adesso dà potere magico che è molto interessante ma il bottino di guerra funziona in maniera diversa quando sei vicino a un alleato gli attacchi base giustizia e le minion con meno del 50% della salute massima e 30% per gli attacchi a distanza che cosa vuol dire che i campioni dalla gittata possono prendere effettivamente lo scudo reliquia oppure l'oggetto alternativo che è il coprispale d'acciaio oh mio dio questo è un cambiamento colossale è fighissimo e conferiscono al tuo alleato oro per l'uccisione esattamente come prima esattamente come prima quindi condividi l'oro punto semplice efficace l'oggetto è come prima ma non fai danni in più nel caso della linea di oggetti offensiva e non curi i tuoi alleati felici finalmente niente più scemenze che portano a follia assurda in laning phase in bot lane picchiatevi ragazzi picchiatevi ottieni quindi lo scudo reliquia 30 hp un pochino meno ma ottieni 5 di potere magico niente male considerato tutto curioso molto bello ottenere 500 oro in totale attraverso bottine di guerra potenzia questo oggetto in brocchiero di targon 100 salute quindi ne perdi 25 ma hai 10 di potere magico non hai più rigenerazione salute ma adesso passi da 1 oro ogni 10 secondi a 3 oro ogni 10 secondi e già prima l'avevi ricevuto un buff da 1 a 2 oro ogni 10 secondi e l'ultima trasformazione a 1000 gold ottieni 300 hp 50 in meno di prima ma hai 40 di potere magico quindi statistiche in più non ti dà più riduzione ricarica non ti conferisce più rigenerazione salute ma hai 3 oro ogni 10 secondi e puoi piazzare i lumi invisibili il coprispalle d'acciaio e la sua linea semplicemente danno attacco fisico invece che potere magico quindi il senso è questo è l'oggetto da tank che sfrutta il danno magico questo è l'oggetto da tank che sfrutta il danno fisico questi sopra sono gli oggetti da danno fisico e aggressivo danno magico aggressivo e non difensivo molto semplice niente di complicato davvero 24 attacco fisico è veramente tanto questa roba mi fa paura sono curioso di vedere come lo sfrutteranno a modo ma vedremo ma vedremo la linea della moneta antica è morta andate a fanculo voi che giocavate la moneta antica non è vero non andate a fare in culo però siete persone orribili lo sogno di Shurelia il sogno di Shurelia costa 200 gold in meno lo costruisci con un idolo proibito e un bracciale cristallino molto interessante ti costa 600 gold in più di prima no non è vero costa 200 gold in meno ma ci vogliono 600 gold per combinare l'oggetto ti dà 100 HP in più hai la stessa riduzione di ricarica hai la stessa rigenerazione mana ottieni un potenziamento alla guarigione ai poteri scudo quindi tu effettivamente vai a amplificare i tuoi scudi e le tue cure quindi Gianna, Soraka, Nami eccetera eccetera io non gioco quelle cose sono felicissime di tutto ciò perché possono andare a curare molto meglio ottieni rigenerazione salute non dà purtroppo più potere magico però conferisce a te un alleato entro 1000 di portata 40% velocità di movimento bonus per 3 secondi non è roba da poco non è per niente roba da poco penso che questo sarà molto sottovalutato ma lo stesso tempo sarà molto figo come oggetto a supporto nuovo molto passivo però non c'è più rigenerazione non come prima ah finalmente oggetti energizzati per il critico ci sta considerato tutto perché gli ad carry saranno un pochino in difficoltà avendo un pochino meno livelli un pochino meno esperienza in bot lane un pochino meno sustain un pochino meno danni da subire però anche allo stesso tempo partiamo bene energizzato i danni degli effetti energizzati ora si accumulano invece di usare la fonte di danni maggiori quindi ogni singolo oggetto energizzato ti dà un attacco potenziato che somma uno all'altro questa è una figata pazzesca perché vuol dire che sono tanti i danni in più le cariche energizzate ottenute dal movimento sono aumentate del 20% quelle ottenute dal attacco sono ridotte del 50% quindi attaccare tanto non ti aiuta ma muoverti tanto quindi kaitare correttamente ti aiuta è un casino gli effetti energizzati ora funzionano sempre sulle torri questo è importante perché vuol dire che le strutture saranno un pochino più fragili nel momento in cui i tiratori avranno i loro oggetti e partiamo dall'aggiornamento più importante sì sì il rasoio della tempesta è finalmente utile al di fuori di kaisa maledetta stronza oh 100 gold in più costa e dici cavolo costa di più non è un gran che 5 di attacco fisico in meno sta perdendo statistiche poi boom probabilità di colpo critico 25% finalmente puoi inserirlo in una build a critico ed ha un senso logico grazie 15% di velocità d'attacco invece che 30 ma i danni energizzati salgono da 50 a 120 il rallentamento energizzato che è l'autoattacco potenziato del rasoio della tempesta che ti rallenta ti rallenta di più per mezzo secondo per mezzo secondo e non decrescere il tempo per quel mezzo secondo hai il 75% di slow addosso non amplifica più gli altri effetti energizzati del 35% ma ne hai davvero bisogno quando ottieni più slow e più danno e aspetta perché non è finita qua i danni energizzati da archibugio ripetizione adesso è 120 fisso quindi sono 120 120 120 ebbene sì puoi fare 360 danni energizzati con la combinazione di rasoio della tempesta archibugio di ripetizione e pugnale di static Jesus fucking Christ questa cosa è fortissima adesso gli effetti energizzati non influiscono più sulle torri nel momento che questa ora è una funzione di base energizzato non hanno rimosso niente non aumenta più il tasso di ricarica di energizzato non accelera all'urtenimento della carica non importa hai molto più danno e fai danni alle strutture pugnale di static anche questo 120 danni i rimbalzi del fulmine sono aumentati da 5 a 7 quindi puoi fare 360 danni li puoi fare ad area e puoi rallentare tutti aha no no ma i tiratori ragazzi saranno indeboliti in questa sì non per la meno esperienza io già sentivo i pianti credici scheggia i kick case sale di 100 gold il costo mai da 50-80 danni energizzati rip guanto da mischia la cappa della gita sarà l'unico oggetto che ti dà probabilità di critico e sale da 20-25% non male e il fervore per compensare il fatto che ha una cappa della gita al suo interno costerà 1400 gold invece che 1200 il che ti rallenta un pochino la build ma il costo degli oggetti finali è invariato quindi tutti gli altri oggetti hanno lo stesso identico costo il fervore costa un pochino di più certo ma ottieni 10% di più di critico un pochino meno velocità attacco e vorrei ben vedere oggetti rimossi lancia di shojin ciao portale di zrot ciao sparcare resistenza ciao caparapace caparapace perché non c'è più spaccare resistenza e portale di zrot questi facevano veramente cacare erano proprio inutili erano proprio inutili è proprio terribile terribile erano tutti orribili la lancia di shojin è morta ciao jax ciao renekton buona fortuna negli esports andiamo avanti andiamo avanti clip to menzia è morta non esiste più non esiste più la cleptomanzia fottiti kyle ezreal e tutti i campioni che toplin non volevano giocare ma volevano solo far male ora dovrete combattere e poi inseriscono letteralmente a casa un prototipo che si chiama omnidolite ottieni periodicamente un uso singolo di un'altra runa chiave casuale una volta ottenuta una runa chiave non può più uscire finché non restano solo tre opzioni a quel punto la tabella torna ai condizioni iniziali ottieni una nuova runa chiave ogni 8-4 secondi corpo a colpo livello 1-18 o 12-8 secondi a distanza in campione agitata da livello 1-18 dopo aver utilizzato l'ultima la crescita è sbilanciata verso i livelli più alti quindi più sei alti livelli più è facile ottenere altre rune ottieni una nuova runa chiave quando sei fuori al combattimento dopo 40 secondi che non ne usi una la tua runa chiave attuale appare a destra della tua barra della salute e possono vederla tutti i giocatori della partita ok le anime di raccolto oscuro rimangono dopo aver ricevuto l'universo runa chiave e influenzano tutte le tue altre rune chiave anche la salute di presenza di mortale persiste dopo aver cambiato runa chiave è così strana non penso che la utilizzerà praticamente nessuno poi qualche matto riuscirà a sfruttarla è di sicuro su certi campioni però la vedo molto molto eccentrica e non riesco neanche a concepire un suo utilizzo sincero conquistatore conquistatore al massimo delle cariche il conquistatore cura del 15% dei danni post riduzione contro i campioni il che va a mettere un po' le tenaglie su quelle cure perché se sono post riduzione un tank va a gestire i campioni al conquistatore in maniera molto più facile di prima perché prendi resistenze flat ciao cariche massime che salgono da 5 a 10 non converte più in danno puro il tutto il conquistatore ciao conquistatore con il danno puro le cariche 1 per colpo di abilità o attacco baso 2 per colpo di abilità o attacco baso in corpo a corpo 1 per attacco baso a distanza quindi le abilità adesso ti danno effettivamente due cariche interessante mica ci sono campioni che spavano spell in top play in vero rise durata della carica durano 8 secondi fisse rise intensifies forza adattiva per carica scende un pochino ma ottieni il doppio delle cariche riot rise e cassiopeia saranno grossi problemi in questa preciso grossi ma grossi grossi problemi porca miseria riot perché perché fai questo scossi assestamento le resistenze che ottieni sono meno di prima se non hai tante resistenze bonus dalla tua viene letteralmente dimenzato il valore di base i danni sono aumentati di base ma scalano con la salute bonus non sulla salute massima quindi chi la sfrutta meglio chi compra HP e chi compra resistenze i tank non più i campioni agitata ciao lissandra con l'aftershock ci vediamo in una prossima vita la ricarica è di solo 20 secondi questo rende molto più forte di prima soprattutto su certi campioni vedi anche Orn in corso superiore che con la testata non è male però comunque di sicuro qualcuno si inventerà qualcosa su Orn di strano le resistenze scosse di assestamento ora non durano leggermente più del dovuto era un bug che c'era da sempre la presenza di spirito adesso non ripristina il 20% ma massimo rimborsa il 10% e rimborsa cioè il 10% di tempo di ricarica della suprema quindi non ti riduce più il cooldown della suprema ma ripristina il 20% il mana o dell'energia massima quindi Shen Kennen Zed Akali Lissin sono felicissimi di ciò perché hanno una runa su questo su questo lato e aumenta il mana massimo di 100 fino a un massimo di 5 volte quindi fino a 500 di mana in più o l'energia massima di 10 fino a 50 quindi Rise con la presenza di spirito e il conquistatore sta per prendere la top lane a cartocciarla e ridere ma la top lane volevamo aiutare non dico niente non dico niente la cappa della nuvola al lancio degli incantesimi dell'evocatore non più al lancio della suprema verrà attivata la cappa della nuvola la velocità di movimento non è più flat ma scala è una percentuale che scala la velocità di movimento per 2 secondi e mezzo in base al tempo di ricarica dell'incantesimo dell'evocatore vedi che il flash del trasporto te lo aumentano nel 35% il 25% te lo danno guarigione ustione purificazione sfinimento spettralità barriera e il tempo di ricarica breve è 15% di velocità di movimento che è l'ex flash la punizione il furto magico di Zoe e il marchio dell'Aram ora ora già uno stronzo quando aveva la cura o il flash riusciva a spostarsi bene con la spettralità pure gli dai velocità di movimento in più ok che devi optare per un'intera runa per questa cosa ma non è che è un effetto da poco è questo ma ma diciamocelo tutto ciao l'Anda degli avvocatori la selva demoniaca è stato bello è stato no ma va a caccare selva demoniaca eri proprio brutta addio per sempre ciao e semplicemente Senna ha avuto questo bilanciamento che è basic Senna non converte più potere magico di vantaggio e mancolato in forza attiva dato che può acquistare la falce spettrale e Senna non ottene più cariche doppie nebili in Aram urf e relative varianti niente di più non ci sono bilanciamenti che per i campioni ragazzi niente zero nada perché perché Riot ha deciso una cosa non serve bilanciare i campioni se tutto è sbroccato noi ci vediamo dopo in live per la patch bella ragazzi grazie grazie